espressioni e problemi con le frazioni algebriche. L'immagine in figura è ottenuta a partire da archi semicircolari, i cui raggi misurano x, 2x e 4x. Dobbiamo calcolare quale frazione dell'area del cerchio di raggio maggiore è colorata e verificare che non dipende dalla variabile x. L'area ombreggiata si può ottenere sottraendo all'area del cerchio di raggio 4x l'area del cerchio di raggio 2x e poi aggiungendo l'area del cerchio di raggio x. Ricordiamo che l'area di un cerchio di raggio r è uguale a π per il quadrato di r. Quindi, l'area del cerchio di raggio 4x è uguale a 16π per x al quadrato, l'area del cerchio di raggio 2x è uguale a 4π per x al quadrato, mentre l'area del cerchio di raggio x è uguale a π per x al quadrato. Sostituendo queste espressioni nella formula precedente, otteniamo che l'area ombreggiata è uguale a 16π x al quadrato meno 4π x al quadrato più π x al quadrato, cioè a 13π x al quadrato. La frazione dell'area ombreggiata è quindi il rapporto tra l'area ombreggiata diviso l'area del cerchio di raggio 4x, cioè è uguale a 13π x al quadrato diviso 16π x al quadrato. Osserviamo che quando x è uguale a 0, la frazione non ha significato. Invece, se x è diverso da 0, dobbiamo semplificare i termini π x al quadrato che compaiono al numeratore e al denominatore della frazione e otteniamo che il rapporto è uguale a 13 sedicesimi. Come indicato nella consegna dell'esercizio, questa frazione non dipende da x.